Io ho cominciato a venire in Bicocca della primavera, prima del primo anno accademico per i sopraluoghi, perché si dovevano decidere gli spazi per i dipartimenti, per la suddivisione degli spazi. Poi abbiamo cominciato e io nel primissimo anno sono stata coordinatrice per qualche anno del primo corso di laurea per la formazione dei maestri. Quindi collego sia queste primissime esperienze nei luoghi, quindi vedo i luoghi, sia le prime esperienze con gli insegnanti, perché era stata la prima laurea partita in tutta Italia per i maestri. Era abbastanza deserto, cioè alle 5 qui era tutto deserto, quindi questi sono alcuni ricordi degli spazi. Ricordo anche, un altro ricordo è il nostro primo preside, il professor Riccardo Massa, di cui poi abbiamo dato anche il nome a un'aula, che era così entusiasta di questa esperienza che ricordo un primo autunno in cui siamo stati qui, che in piazza dell'Ateneo Nuovo diceva «com'è bella la bicocca in autunno!». Era una giornata di sole, ma forse c'era anche un elemento di entusiasmo dovuto a questa avventura che si delineava. Io ho avuto un'esperienza anche abbastanza breve nel 1993 come assessora all'educazione, ma già allora si discuteva della seconda università. Io ritengo che la seconda università statale, cioè Bicocca, rispetto a quella che noi chiamiamo la statale, che è la prima università degli studi, sia stata fatta in modo molto bene, pensando, si era discusso anche per altre collocazioni in città, e pensando anche alla provenienza degli studenti. Penso alla collocazione, per esempio, di Medicina a Monza. C'è stata una costellazione felice tra l'allora Rettore Mantegazza, il Ministero, e vari aspetti, che ha portato a un distacco, a una gemmazione, a un distacco molto collaborativo. Qui poi ci sono state anche proprio le persone di passaggio, penso al primo direttore generale, cioè Cassani, che aveva prima dei ruoli statali, e quindi è stata fatta con grande collaborazione. E credo che, anche se all'inizio ci sentivamo tutti un po' spersi qui in questo ambiente, soprattutto, io venivo dove avevo, noi avevamo l'istituto nel cortile del Filarete, quindi proprio un cambio di prospettive, anche fisiche molto forte, e penso che sia stata invece una cosa virtuosa, anche nella divisione delle cosiddette facoltà, come si diceva allora, anche delle discipline, con alcune duplicazioni, e invece, per esempio, nelle nostre discipline, nelle scienze umane, facendo un centro forte per sociologia, psicologia e scienza della formazione, che alla statale non c'era. Quindi direi che un giudizio sostanzialmente positivo. Allora, noi abbiamo alla Bicocca un nido aperto dal 2005, e una scuola dell'infanzia aperta dal 2017. Il nido è nato per una costellazione felice, anche in questo caso, prima da un'idea che veniva dal Cug, in sostanza, dalle colleghe di sociologia, di trovare delle soluzioni, anche per le dipendenti, i docenti o non docenti di Bicocca, e dalla richiesta, dal bisogno che avevamo a quel tempo, di altri spazi. E quindi, ricordo, siamo andati con il professor Fontanese, il nostro primo rettore, dall'ora sessore all'educazione, per sapere se potevano, tra degli edifici dismessi, potevamo avere un edificio. La sede attuale del nido, via Giolli, era un pezzo di una scuola, una parte di una scuola media, che allora era praticamente vuota, e nella discussione, poi emerso da parte dell'assessore, c'era molta incertezza. A un certo punto ho detto, se noi facessimo un nido, e questo ha un po' sbloccato la cedra. Se noi facevamo, eravamo disposti a fare un nido, e allora ce n'era molto bisogno a Milano, come c'è ancora oggi, ma forse ancora più acutamente, e questo ha sbloccato la situazione. Quindi noi abbiamo avuto questo immobile, purché, io lo chiamo l'affitto, in qualche modo, era aprissimo un nido, con una riserva di posti per i cittadini della zona. E quindi questo è avvenuto nel 2003, il nido è aperto nel 2005, oggi abbiamo 66 bambini iscritti, ma sempre con una riserva di 25 posti per gli utenti, diciamo, del territorio, poi abbiamo anche una riserva di posti per Bicocca, ed è nato questo primo progetto. Negli anni, molti anni dopo, il Comune aveva costruito questo edificio assieme a Piorelli, con gli oneri di urbanizzazione secondaria, ma non intendeva in quel momento aprire un'altra scuola qui, e quindi ancora per degli incontri con allora l'assessore Anna Scavuzzo, che lo è tutt'oggi, e dopo un passaggio invece in altra sulla sicurezza, abbiamo emerso questa possibilità di aprire qui una scuola che facesse polo con il nido, cioè che ci fossero dei progetti comuni, e prima è stata aperta assumendo le insegnanti che sono tutte nostre laureate come tecnologhe. Poi dopo due anni invece abbiamo cambiato e abbiamo avuto la parità scolastica ed è stata fatta questo spin-off con dei soci. Noi abbiamo che gestisco, oggi il nido è gestito, e la scuola sono gestiti da una società di cui Bicocca è socio di maggioranza, lo ha 40%, che sono cinque cooperative sociali e una fondazione oltre a noi. È una cosa complessa, cioè forse in qualche modo da rivedere. In quegli anni noi abbiamo anche promosso una rete tra i nidi universitari che erano pochissimi o stavano per nascere. Abbiamo fatto anche molte consulenze ad altri atenei, consulenze gratuite diciamo, ma consulenze ad altri atenei che volevano aprire i loro servizi. Alla luce delle esperienze più recenti vi verrebbe da dire che forse lo spin-off, che è una società commerciale, è un SRL alla fine, forse non è la soluzione più indicata e forse anche la nostra modalità di gestione dovrà cambiare. Questo lo vedremo. Comunque resta che ha fatto molta comunità, cioè da alcune anche indagini che avevamo fatto negli anni, e il fatto che ci fosse il nido e che al nido si incontrassero i bambini del quartiere, i bambini del personale tecnico-amministrativo, i bambini dei docenti, poi nel tempo anche degli studenti, dei dottorandi, ha molto legato, soprattutto negli anni iniziali. E questo in certa misura viene anche, ormai ci siamo più abituati anche con la scuola. Basta vedere quando noi abbiamo bisogno della manutenzione o di qualunque cosa, abbiamo una risposta molto pronta. ovviamente con i limiti che ci sono rispetto a tutti gli altri impegni. Cioè in qualche modo il nido e la scuola vengono visti come qualcosa di nostro dalla comunità e dall'università. E questo è stato molto importante. Poi vorrei aggiungere che nel nido e nella scuola dell'infanzia noi abbiamo fatto molta sperimentazione, facciamo ricerca. Il mio focus di ricerca sono sempre stati l'infanzia dallo 0 a 6 anni, ma anche i servizi per l'infanzia. Tuttora presiedo la Commissione Nazionale per il sistema cosiddetto sistema 06 e abbiamo condotto sia nel nido che nella scuola e conduciamo insieme agli educatori e insegnanti che ripeto sono quasi tutti i nostri laureati parecchie attività di ricerca pubblicazioni e anche collaborazione con colleghi non soltanto dell'area educativa ma per esempio psicologica ma abbiamo lavorato anche con il professor Galli in ambito anche scientifico e cerchiamo di portare avanti.